No, praticamente... Le indagini coordinate dalla DDA della Procura della Repubblica di Napoli hanno portato ad accertare che Giovanni Nuvoletta, dopo anni di traffico internazionale di stupefacenti, avrebbe trasferito gradualmente i propri interessi economici nel nord Italia, in particolare in provincia di Milano, dove è stato arrestato, avrebbe aperto molteplici attività imprenditoriali nel settore della ristorazione e nel settore caseario grazie al denaro delle attività illecite. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato beni immobili e terreni, autoveicoli, conti correnti complessi, aziendali, cavalli da corsa e capi bufalini per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro. Il tutto è partito grazie alla curiosità e ai sospetti di un finanziere, come spiega il colonnello della Guardia di Finanza di Milano, Vito Giordano. Grazie appunto alla professionalità e alla curiosità di un collega che ha individuato sia dalla denominazione sociale che comunque da dei movimenti particolari che avvenivano intorno a questa pizzeria, si è risaliti poi la filiera dei soci, degli amministratori, sia di fatto che di diritto, fino a giungere qui a Napoli, dove grazie alla sinergia fra l'autorità giudiziaria di Milano e di Napoli e quei colleghi della Guardia di Finanza di Napoli si è riusciti a condurre un'operazione che ha riguardato sia una repressione di un'ala militare, sia una repressione e quindi un'acquisizione al patrimonio dello Stato di beni e società.